Un'idea innovativa nel settore della micromobilità è quella proposta da Jenny Zero, due ruote made in Italy per i piccoli spostamenti. Il modello è nato dal lungo sforzo di ricerca del suo creatore, disabile dopo un incidente, che inizialmente ha tratto ispirazione dal Segway ed è poi riuscito a sviluppare una tecnologia autobilanciante interamente europea e utilizzabile da un conduttore seduto. Il nuovo Personal Transport ha una portata fino a 110 kg, velocità massima di 15 km orari e con i suoi due motori elettrici riesce a superare pendenze anche del 20%. Jenny Zero dispone inoltre di un sistema di ricarica integrato che permette di variare la quantità di corrente in funzione della percentuale di ricarica, migliorando così la durata di vita delle batterie. La connessione è garantita da un modulo GSM, da Wi-Fi e GPS. Il mezzo dispone di un display LCD touchscreen e di un allarme satellitare e di sterzo regolabile a scomparsi. E finisce così questa edizione del TG1 che torna alle 16.45. Grazie di averci scelto e buona giornata.